Astrologia alchemica è una tecnica antica e sconosciuta, non è l'astrologia normale, non è l'astrologia solo esoterica o l'astrologia karmica, è una branca dell'astrologia che ha a che fare con la trasmutazione del vostro sé, quindi va ad individuare direttamente tutto ciò che è dentro di voi e all'esterno di voi, ne conosce la signatura, ne conosce i cicli e quindi li mette in opera per poter ottenere sia dalla vostra vita, dalle vostre situazioni vitali il massimo, sia per poter trasmutare questo, mediante la conoscenza dei vari gradi profondi e nascosti che sono nell'osariaco, per andare a trasmutare quindi per esempio delle situazioni, quindi non è un'astrologia passiva, cioè so che accade questo, e accadrà questo, è un'astrologia attiva, cioè va a predisporre dei mutamenti a livello interiore andando a mettere come su una scacchiera certe risonanze di modo che si possa giungere a ridefinire il proprio destino, quindi trasmutarlo. è molto adatta anche a coloro che già fanno alchimia grande o alchimia iniziazione per poter conoscere lo spagiria o magia in modo che possano conoscere i cicli, il loro funzionamento, la loro forza, il loro significato e non solo i cicli, i signori, i signori primi, i signori secondi, i signori terzi, gli aspetti occulti, gli aspetti palesi, i nomi, le facce e tante altre cose che solitamente sono tralasciate dall'alchimia moderna che si dice scientifica ma che ha snaturato completamente la conoscenza di questa scienza antichissima.